Altra notte all'addiaccio per i lavoratori dell'elettroclima e della nuova X-Gamma è la quarta di seguito. I presidi sulle strade d'accesso alla raffineria continuano. Il freddo è pungente e per riscaldarsi si trovano sistemi artigianali. La situazione è particolarmente tesa. Un Natale amarissimo, l'albero addobbato con le lettere di licenziamento nella testimonianza più evidente. E questa mattina altra doccia fredda. Ai blocchi si sono presentati due lavoratori della ditta Edile, nuove strade, destinatari di altrettante lettere di licenziamento. Non ci sono ammortizzatori sociali, nessuno ci ha aiutato e siamo qua per chiedere un aiuto, abbandonati proprio da tutti. Sperando che qualcosa magari si risolva perché ognuno di noi abbiamo famiglia, mutuo, figli, scuole. I ragazzi devono andare a scuola, non sappiamo più cosa fare. Noi stiamo lottando per avere un po' di pane qua sulla nostra terra, non per andare fuori altrove. Dopo 37 anni che ho lavorato dentro lo stabilimento, tutto un tratto mi vedo senza lavoro, senza niente, senza nessun sussidio. In quanto aspetto qualche chiamata magari, perché essendo disoccupati dopo 12 mesi, 14 mesi già è fuori uno e non sa dove deve andare. Quindi per me non c'è nessuna speranza, aspetto qualche chiamata che mi dicono, guarda c'è un prepensionamento, c'è qualche cosa, tutto ciò. Ormeno il mio futuro magari sarà di avere un prepensionamento, qualche cosa per essere diutile anche per la mia famiglia. Intanto la sezione locale della Croce Rossa ha montato una tenda nei pressi dei blocchi per permettere ai lavoratori di ripararsi dal freddo. Un segnale di vicinanza in un momento assai difficile.